Ciao a tutti, siamo con Alice De Gradi del Vallefoglia Pesaro, purtroppo sconfitto 3 a 0 oggi al Palauanni dalla Savino del Vene Scandicci. Alice, però la partita era iniziata comunque con un'ottima fase cambio palla da parte vostra, quindi il servizio le avate anche messe in difficoltà, poi però dopo forse è un po' calato il servizio vostro e Savino poi ha dei giocatori... Sì, penso che un po' però il primo set l'abbiamo buttato via noi, cioè se devo parlare in personale ho sbagliato dei palloni importanti fino alle primo set e quando giochi queste partite con le palle non le devi sbagliare, poi è stato difficile rimanere in partita perché poi loro sono a squadra forti e devi giocare al 100%, peccato aver sprecato quel primo set. Eh, peccato. Comunque vi portate a casa anche negli altri set, comunque una buona fase di break point, dove comunque l'attacco è stato comunque una buona percentuale anche negli altri set. Sì, però penso che in questo momento noi abbiamo bisogno di trovare un gioco un po' più fluido, abbiamo perso le partite importanti e adesso dobbiamo mettere testa in palestra e iniziare a macinare qualche punticino in più. No, non capisco.